In Milan a farmi compagnia quest'oggi chi c'è? Stefano Giovanpietro Esatto, oggi non c'è Sara Castellana a cui abbiamo concesso qualche giorno di pausa è tornata nella sua Palermo ovviamente, la aspettiamo qui tutti quanti a braccia aperte oggi la sostituisco io e appunto andremo insieme a Fernando ad analizzare tutto ciò che ci propone il sempre tumultuoso mondo dei social network partendo come sempre dalle pagine Facebook e Twitter dell'Udinese come ha detto Fernando oggi c'è giornata di Coppa Italia molto molto importante vedremo come rimbalzeranno le notizie sui nostri organi di social network appunto 82.316 sono i like che abbiamo sulla pagina di Facebook mentre su Twitter come al solito abbiamo superato quota 35.000 davvero un bellissimo traguardo di Natale che continua a guardare a escludere l'orizzonte verso nuovi follower che aumentano giorno dopo giorno ok ci siamo ripresi dallo shock di Giovanpietro al posto di Sara iniziamo con la nostra trasmissione parliamo di quello che è il calciomercato che sta imperversando in questi ultimi giorni ovviamente tiene banco la questione Guarin Vucinic caro Stefano non si sta capendo assolutamente nulla Guarin che sembrava oramai a un passo alla Juventus insurrezione da parte dei tifosi dell'Inter che hanno di fatto bloccato la trattativa Tohir che ha dovuto cedere si è parlato di mele marce contestazione sotto la sede dell'Inter ovviamente il riferimento è a branca per amore del povero DS dell'Inter non andremo a andare a vedere tutte quelle immagini che circolano su Facebook che lo prendono un po' in giro sul suo senso degli affari però c'è stata questa contestazione la Juventus assolutamente stizzita ha detto così non si fa ma non solo la Juventus stizzita secondo me tu hai un video che ci fa vedere l'hai detto benissimo stizzita non solo la Juve ma anche l'altro protagonista involontario di questa diatriba di mercato che è Mirko Vucinic anche lui ha un passo dall'Inter è lui che si ritrova anche lui in questo punto a restare alla Juventus abbiamo un video che riprendiamo da quella che è la Gazzetta il sito della Gazzetta, gazzetta.it di Vucinic che lascia la sede della Juventus molto molto arrabbiato video amatoriale però dove viene ripresa appunto la rabbia di Mirko Vucinic che non ha rilasciato alcune dichiarazioni all'uscita dalla sede della Juventus Vucinic che credeva di essere ormai con un piede e mezzo a Milano invece è saltato praticamente tutto infatti guardate in questo video come faccia anche credo una manovra abbastanza pericolosa senza neanche voltarsi all'indietro retromarcia e poi schizzaria per Torino in attesa di capire quale sarà il suo futuro si è parlato anche di Lazio però insomma se avesse avuto qualcuno dietro la macchina penso l'avrebbe tirato sotto tranquillamente è un Vucinic scuro in volto assolutamente per lui non ci voleva questo anche perché cerchiamo un po' di ragionare con Bonucci che proprio su Twitter aveva detto addio arrivederci amico mio, ci vediamo in bocca al lupo adesso si ritrova ad andare nella Juve oggi non avevano voglia nessuno dei due né Vucinic né Guarin si sono allenati, Guarin dicono in permesso Vucinic l'abbiamo visto abbandonare proprio il centro di Vinovo però c'è un giocatore di tanti giocatori scontenti ce n'è anche uno contentissimo della sua nuova avventura parliamo del maxiscambio Sassuolo Parma che ha visto protagonista proprio Schelotto sono andati appunto Schelotto e Jonathan Rossini abbiamo una foto dei due giocatori presentati con l'amministratore delegato Pietro Leonardi nella sede del Parma presentazione per loro due al Sassuolo sono andati invece altri giocatori come Rosi e Pedro Mendes e appunto un giocatore che mi sfugge me lo ricorderò però ovviamente noi andiamo ad approfondire quelle che sono le impressioni di Ezequiel Schelotto che è felicissimo di essere al Parma ringrazio la società per la fiducia farò di tutto per onorare la maglia e trovare continuità ovviamente l'hashtag Parma e il tag appunto di Parma FC e poi arrivano anche i primi in bocca al lupo buona fortuna è carichissimo lui per la nuova avventura continua a ringraziare tutte le persone del Sassuolo e fare un in bocca al lupo ai miei ex compagni quindi per Schelotto dopo la parentesi all'Inter poco fortunato a parte il gol nel derby per lui c'è odore di trasferimento assolutamente sì Galgo Schelotto che poi ha anche impresso sulla sua pelle quella che fu la giornata del derby il momento più alto della sua carriera realizzò il gol del pareggio di quel derby che finì per 1 a 1 ecco è sul suo braccio ora quel momento magari lo cercheremo anche poi dopo sempre sul profilo di Schelotto parliamo ora di cambiamo argomento c'è direi di andare in Spagna su Marca c'è Iker Casillas che ha raggiunto un record di imbattibilità non so se abbiamo già pronto il contributo lo andiamo a trovare prima però ti do una chicca rimaniamo su Marca allora parleremo prima dopo di Real Madrid adesso noi parliamo di Barcellona parliamo di Gerard Piqué che appunto si è divertito a diventare uno zombie avete sentito bene qui Marca ha fatto un po' una ricostruzione di quella che è stata questa storia molto simpatica con Piqué che appunto stava vedendo la famosissima serie di Fox The Walking Dead in televisione poi è stato contattato da delle tifose molto particolari che appunto si sono travestite da zombie alla partita del Barcellona e lui stesso poi è stato truccato da zombie adesso vedremo se il video di Marca ci darà soddisfazioni in merito per quanto riguarda proprio questa situazione molto molto particolare nel frattempo noi comunque non stiamo con le mani in mano andiamo ovviamente a cercare anche quella che è la notizia che tu hai accennato di Casillas e la vedo appunto qui è un bel wallpaper veramente meraviglioso come al solito Marca si diletta in questi wallpaper Casillas con la maglia viola del Real Madrid tutto molto viola che para questo pallone perché ha un nuovo record 592 minuti di imbattibilità assolutamente un grandissimo portiere lo ha confermato dopo la parentesi Murigno in cui non giocava più di tanto rimane un mistero e a proposito di portieri però tu hai una chica assolutamente sì e ti ringrazio per l'assist perché nel Real Madrid gioca un altro portiere che a quanto pare avrà un grandissimo futuro oltre ad un cognome importantissimo parliamo del figlio di Zinedine Zidane Luca Zidane che gioca nelle giovanili del Real Madrid ieri ha fatto una partita straordinaria contro i pari categoria del Manchester City vediamo sempre questo video preso da Gazzetta.tv le parate in un torneo giocatosi a Doha domenica 19 gennaio è stato assolutamente straordinario il figlio di Zizou che non sarà bravissimo con i piedi non avrà il talento del padre ma importa sembra saperci fare guardate qui quanto senso della posizione quanto talento ha questo giocatore Luca tra l'altro il nome italiano credo anche in omaggio al periodo che Zizou ha trascorso a Torino con la maglia della Juventus alcune parate assolutamente straordinari come guardate questa bravissimo a recuperare in doppio tempo sembrava fuori causa poi ha allungato il braccio ed è volato a tenere viva è in partita la sua squadra che ha vinto poi alla fine per una rete a zero contro il Manchester City quindi comunque contro una squadra che ha un settore giornalile molto molto importante il studente straordinario dunque Luca Zidane nuovo talentino della cantera del Real Madrid l'ha portato papà Zizou ma a quanto pare anche con le mani in la famiglia Zidane ci sa fare sicuramente Zinedine gli avrà chiesto di seguire le sue orme magari non pensava proprio a un portiere in famiglia però si vede che il talento non ha ruolo in campo adesso voglio andare un po' anche sull'impegno sociale da parte di appunto del Cagliari non calcio in questo caso ma di un tifoso appunto c'è una petizione seguita proprio dall'hashtag uno stadio per il Cagliari perché comunque è stato sottolineato più e più volte lo abbiamo fatto anche durante le trasmissioni studio e stadio è veramente fatiscente il Sant'Elia con soltanto 5 mila tifosi che possono entrare il resto è un cantiere aperto insomma su tutti i media si parla di questa situazione veramente triste e c'è appunto ci sono dei firmatari d'eccezione di questa petizione che andremo a vedere appunto basta con la vergogna si vuole la Caralis Arena è una lettera aperta al presidente della regione Sardegna Ugo Cappellaci al ministro per gli affari regionali le autonomie e lo sport Graziano Del Rio al direttore del Corriere dello Sport Paolo De Paola e qui vado a evidenziarti l'hashtag uno stadio per il Cagliari è forte poi la frase basta parole al vento il Cagliari vuole la sua casa perché il Cagliari veramente sta giocando nonostante tutto dovrebbe anche non poter giocare in uno stadio del genere e appunto abbiamo parlato di testimonial in questo caso d'eccezione la filmiamo.it questa è l'iniziativa e sul nostro sito i tifosi del Cagliari Calcio chiedono un nuovo stadio filmi anche tu rivolto a Rajan Aingolan che nonostante sia passato alla Roma ha subito aderito abbiamo visto poi sulla pagina di Massimiliano Zirone appunto il portatore di questa iniziativa sono stati coinvolti anche altri giocatori tra cui Piniglia quindi ovviamente i giocatori del Cagliari in prima linea anche se Aingolan ormai è un ex lo abbiamo visto ieri vincere allo stadio olimpico contro la Juventus però è una tematica sentita ovviamente anche lui ha messo la sua firma assolutamente sì anche il Cagliari in merita di fatti uno stadio vero e proprio i tifosi che sono stati costretti a viaggiare per chilometri e chilometri pur di seguire la propria squadra immaginiamo infatti che Cagliari è proprio la punta estrema dell'Italia devono andare a Trieste ogni volta che è qui vicino più vicino a noi che siamo dell'Udinese piuttosto ai tifosi cagliaritani per cui giustamente il Cagliari il Cagliari calcio merita una casa e ha sottoscritto questo anche Raja Naingolan che ha rimasto forse una parte di cuore proprio in Sardegna io direi di fermarci un attimo sono le 4 e meno un quarto le 5 e meno un quarto pardon erano le 4 erano le 4 e meno un quarto ci diamo un attimo ingarbugliati con gli orari sono sempre le 4 e meno un quarto il tempo giusto per prenderci una pausa e tornare subito dopo con Social Channel abbiamo ancora tanti contenuti a farvi vedere al Fair Play che c'è stato con Alessandro Birindelli Birindelli che ormai è un abitué di questa pratica per fortuna direi diffusa nel suo ambiente però lascio la parola Stefano che vi illustrerà quello che ha fatto Birindelli e poi torniamo subito da me perché devo farvi vedere qualcosa di diametralmente opposto eh sì perché Birindelli non ha nemmeno tantissimi capelli quindi perde il pelo ma non il vizio però scherziamo ovviamente non è un vizio in questo caso anzi sono buonissime abitudini di Fair Play aveva ritirato la sua squadra Birindelli quando appunto dei genitori si erano un po' presi troppo erano anche entrati in campo per contestare alcuni giocatori stiamo parlando di ragazzi molto piccoli ha fatto addirittura un'altra cosa molto bella Birindelli che è diventato re del Fair Play secondo l'articolo di Sportmediaset.com rifiuta un rigore dopo aver ritirato la squadra appunto per un litigio sugli spalti altro bel gesto del tecnico degli esordienti del Pisa insomma praticamente Birindelli ha capito che non era rigore gli è stato detto dal suo stesso attaccante ha preso il suo attaccante gli ha detto vai a dire all'arbitro che non è rigore rigore è tolto e quindi ovviamente ancora applausi per Birindelli che probabilmente verrà beatificato per quanto riguarda il mondo del calcio e se la merita tutta quanta è assolutamente una mosca bianca un'eccezione in quello che insomma la pratica del Fair Play non è diffusissima come possiamo vedere da questo video che andiamo a vedere nel campionato asiatico Under 22 la Siria ha realizzato questo gol non abbiamo però il supporto video al momento in ogni caso è successo un eccolo qui è arrivato è successo qualcosa di diametralmente opposto a quello che hanno fatto i ragazzi di Birindelli con gli esordienti del Pisa il giocatore della Corea che si fa male Siria che restituisce il pallone non è d'accordo però l'attaccante arabo che raccoglie la palla è deposita in rete qui l'incredulità del portiere della Corea veramente una brutta persona questo giocatore che ha realizzato questo gol e anche è molto giovane quindi Under 22 ecco qui scatta sul filo del fuorigioco e realizza la rete nell'incredulità degli avversari però c'è una giustizia divina ci ha messo lo sguardo perché la Siria non è riuscita a superare la Corea neanche con questo gol Luis Adriano se non sbaglio eh sì forse parli del giocatorello dello Shaq Tardone Fair Play che assume tantissime forme non soltanto queste veramente abbastanza anche spreggevoli e non è un termine pesante come in questo caso della Siria ma anche a livello proprio di comportamenti in campo molto spesso assistiamo a risse soprattutto nel calcio sudamericano sempre molto caldo e andiamo ad attingere tramite Udinese Blog Uruguay Maxi Rissa in campo la polizia deve dividere addirittura i calciatori andiamo a vedere velocemente quello che è questo video dei giocatori che cominciano a darsele un po' di santa ragione addirittura non si riesce a venire a capo di una rissa così grande cercano di spiegarsi ovviamente i protagonisti delle due squadre ma è chiaramente è palese che volessero solo parlare è chiaramente ormai fuori controllo la situazione andiamo un po' avanti nel video per vedere appunto delle immagini tutto nasce da questo intervento molto brutto con i gomiti addirittura poi un calcio nel tentativo di evirare il giocatore avversario veramente un bruttissimo fallo che scadena una rissa colossale addirittura come ci era stato anticipato nel pezzo testuale nel video si vede l'intervento della polizia dover dividere delle squadre delle due squadre che veramente cercavano di darsele di santa ragione e ovviamente questo è il rovescio della medaglia ci sono episodi di fair play e poi c'è ovviamente tutto questo però non so prima magari volevamo chiudere il discorso per quanto riguarda Guarin Vucinic Inter ovviamente abbiamo parlato anche di quelli che possono essere dei insulti prendiamoli tra virgolette per quanto riguarda Marco Branca però dice giustamente un articolo di Sport Media se l'ironia corre sul web vuoi o non vuoi si sono un po' sbizzarreti i tifosi giuventini i tifosi interisti come possiamo vedere qui ad esempio Free Guarin tifosi bianconeri che vogliono quindi Guarin libero poi abbiamo non c'è Guarina da piano gentile un po' come negli ultimi mesi durante le partite dell'Inter liberate il soldato Guarin addirittura qui l'hashtag abbiamo Free Guarin che quindi se la prendono poi c'è Tohir che dall'Indonesia si sta informando costantemente sullo scambio tra Vucinic e Guarin siamo riusciti a trattenere ventola ovviamente poi anche vecchio pallino dell'Indonesiano che informato dello scambio piange ovvero anche gente che vuole buttarsi dal balcone di casa insomma ce n'è per tutti i gusti ovviamente per uno scambio che visto così un po' su due piedi sembra sfavorire nettamente l'Inter poi ovviamente l'Inter avrà avuto le sue motivazioni per fare questo scambio ovviamente quando non ci sono state le condizioni economiche è saltato tutto però ovviamente il web sta impazzendo totalmente per questa notizia ed è giusto che sia anche così assolutamente sì poi spostiamoci su quello che è tutto mercato web perché appunto è arrivata una notizia sempre riguardante il mercato dell'Inter riguarda appunto la Vicenza Guarin perché sembra la capolinea l'avventura di Marco Branca con la dirigenza dell'Inter l'ennesimo curioso episodio di mercato pone sempre al centro dell'attenzione due pedine fondamentali e l'organigramma nera azzurro andiamo a leggere proprio nell'articolo di tutto mercato web Branca e anche Fassone a questo punto rischia anche lui per il direttore dell'area tecnica l'area che circola è solo quella di un addio a fine stagione Sabatini e Leonardo in pole position per la successione dunque caro Stefano Leonardo che potrebbe ancora una volta tornare sotto un'altra veste però occhio soprattutto a Leo per Fassone invece la situazione è diversa lui che è amministratore delegato dell'Inter nominato appunto Nato Iro dopo questa vicenda di Vucic insomma potrebbero saltare delle teste e anche la sua è sul piatto parliamo della gara di ieri tra Roma e Juventus eh sì parliamo anche un po' di Roma e Juventus ha fatto discutere molto questa partita Conte si è arrabbiato Buffon ha lasciato addirittura la panchina per alcune decisioni arbitrali che poi comunque andando a vedere erano da regolamento è stato scagionato diciamo così tagliavento però i romanisti non hanno perso tempo tutti i tifosi sul web per ironizzare su questa vittoria perché comunque hanno sottolineato che la Juve magari ogni tanto piange soprattutto con questa foto molto simpatica uno sfotto che riprende due bambini uno con la maglia della Roma estremamente sorridente e paccioccone l'altro invece potrebbe essere questa un'istantanea della partita di ieri ovviamente la Juventus continua ad avere un grande vantaggio in campionato però la Roma si è tolta decisamente un bel sassonino dalla scarpa però non è l'unica cosa che ha fatto discutere riguardo anche la Lazio c'è stato un episodio abbastanza colorito assolutamente sì l'andiamo a vedere ancora una volta su gazzetta.it insomma la scritta la leggete da soli questa è la presentazione del nuovo acquisto Bastos che si è presentato così ai propri tifosi sarà entrato immediatamente nel cuore dei giallorossi con una scelta del genere però ovviamente a quanto pare la gaffe è stata completamente involontaria perché il Bastos ha semplicemente raccolto una sciarpa che gli ha lanciato un tifoso dalla curva dalla curva sud e lui l'ha raccolta e l'ha mostrata senza neanche leggere quello che ci fosse scritto infatti sono arrivate poi anche le scuse della società su Twitter non si è reso conto del messaggio che conteneva scuse poi anche via telefone dirigenti bianco celesti insomma un episodio anche abbastanza simpatico Bastos involontariamente entrerà al 100% nel cuore dei tifosi giallorossi eh sì abbiamo visto in uno degli ultimi derby Radu fare da direttore d'orchestra un coro decisamente non edificante nei confronti dei tifosi della Roma questa è la risposta giallorossa sicuramente i tifosi lo apprezzeranno di riparare l'incidente diplomatico ha ricevuto una sciarpa rossa Bastos ha ricevuto delle scarpe rosse con la sua classica sobrietà Daniel Alves lo posta su Twitter come vediamo sempre vestito in maniera molto anonima con questo papiglione i suoi tatuaggi sempre ben in vista e ovviamente per lui questo regalo e questa foto molto simpatica e dà delle scarpe rosse mi ricollego velocemente invece a scarpe col tacco perché c'è una giocatrice che può far invidia alle omessi sicuramente avrà più occhi addosso ed è anche molto molto brava con il pallone andiamo a vedere proprio questo video molto simpatico di questa ragazza argentina che palleggia con dei tacchi altissimi autentici trampoli ed è anche molto sciolta nonostante tutto palleggi di spalla insomma ce n'è per tutti e ovviamente vediamo la coltre di persone che si sono riuniti per guardare questo duplice spettacolo comunque di pallone e anche proprio di bellezza della ragazza e quindi è anche una nota di colore come sempre dal sud america che non tradisce mai assolutamente sì e proprio dal sud america arriva il video che vogliamo mostrarvi ovviamente come ogni puntata di social channel vi mostriamo quelli che saranno i prossimi obiettivi di mercato del calcio italiano oggi vi parliamo di un giocatore che direi si può dire affermato il cicerito hernandez del manchester united che sembra possa arrivare in italia in un'ottica che riguarda guarin guarin che potrebbe a questo punto andare al manchester united a scanso però ovviamente anche troppo facile parlare in questo momento perché potrebbe ancora andare alla juve cioè il napoli però nel caso in cui dovesse andare al manchester united sembra pronto cicerito hernandez a fare il percorso inverso ossia andare a milano e vestire il nero azzurro su youtube c'è questo video straordinario sulle capacità dell'attaccante messicano andiamo a guardarlo insieme il cicerito hernandez il cicerito hernandez alla prossima Grazie a tutti 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 Grazie a tutti